Cirino Briganti, mancano tanti servizi in questo rione, perché? Ma evidentemente perché ci saranno dei problemi nell'amministrazione a portarli a termine, però noi abbiamo fatto delle proposte come avere una spazzatrice nella zona dei Santuzzi e cercare di migliorare questi servizi. Speriamo che accorgano la nostra richiesta e al più presto venga fatto il tutto, perché abbiamo bisogno sia dei cestini, abbiamo bisogno delle penzeline per quanto riguardano le persone che aspettano la corriera, abbiamo bisogno di tutto. Certo, tutto in una volta non si può fare. Noi stiamo mettendo i mezzi per comunicare con l'amministrazione e cercare di, piano piano, perché giustamente non si può fare tutto in una volta, di portare avanti queste nostre proposte. Ci vogliono i cestini, ripeto, ci vuole più manutenzione nelle strade, più pulizia per quanto riguardano i quartieri, soprattutto quelli principali, via Gramsci, la zona di Santa Decla e così via. Grazie.